quando si lavora l'orto è un continuo lavoro io dipende sempre dalla passione dalla forza di volontà e dal tempo libero è il mio passatempo quindi qui una parte è stata seminata con alcune varietà di pomodori questo è pronto per la semina dei fagiolini qui sono nate delle melanzane però ci devo mettere un po di acqua si qua il terreno è stato zappato però poi si deve passare con la si deve raffinare si deve spianare la terra questo viene messo tutto seminato a fagiolini alcune varietà di fagiolini e qui rimane da lavorare quest'altra parte di orto peraltro per chi non lo so qua in mezzo al terreno trovo sempre dei sassi e io che faccio li raccolgo li metto qua e quindi poi vanno buttati però è anche vero che qui ricresce l'erba allora ieri ho fatto una sappatura qua ecco qui raccolta l'erba quindi la medesima erba questa ha bisogno di rastrellazione adesso vi faccio vedere